Ebbene sì, siamo giunti ormai a quel bellissimo periodo natalizio che piace tanto ai bambini ma alle volte meno alle mamme perché poi alla fine in cucina magari si hanno zero idee, si hanno tanti ospiti e bisogna comunque pensare a creare qualcosa di sfizioso. E allora eccoci qua, vi do qualche consiglio in diretta da sfruttare abbinando le nostre salse fresche, il nostro pesto senza aglio che ha conquistato grandi e piccini, delizioso ad esempio con le trofie, con i cavatelli e anche magari con gli gnocchi. Eliniamo al fratellino del pesto classico, eccolo qua un pesto solo di pistacchi, se vorrete fare un primo diverso, anzi un antipasto caldo innovativo potrete saltare i caserecci sardi ricotte limone al forno con della besciamella e qualche cucchiaio di questo pesto al pistacchio e con una granella di pistacchi voilà farete un piatto meraviglioso. E ancora la salsa alle noci, deliziosa con tutti i prodotti di magro, quindi quelli che contengono verdure, non soltanto gli spinaci ma magari i carciofi, le zucchine, la boragine, insomma ce ne saranno un sacco nella vetrina natalizia. E ancora la salsa ai funghi porcini e champignon, se magari avete in mente di fare due tipi di primi potrete saltare delle tagliatelle o i tagliolini gran torino semplicemente con un cucchiaio a testa di queste deliziose salse che appunto essendo fresche e concentrate ne basta veramente poco senza andare ad appesentire, ve lo ricordiamo sempre io Alessandro al banco. E ancora la salsa alle nocciole che consigliamo con i nostri agnolotti gran torino d'arrosto ma anche con l'altro gran torino, l'agnolottino del prinal brasato proprio perché la nocciola va ad arricchire tutti i ripieni di carne e anche qua se volete sbizzarrirvi con una granella di nocciole con poco farete un piatto delizioso da ristorante. E chiudiamo questa verra carrellata di condimenti con questo piccolino qua delizioso il burro al tartufo, ne basta davvero poco, un cucchiaino e potrete fare degli antipasti, una pericena innovativo come magari facendo affettine della polenta, magari saltando le nostre crepe o anche qui saltando dei tagliolini creando magari dei nidi e servendole appunto come simpatico aperitivo con un bit. Io sono qua pronta ad ascoltare tutti i vostri consigli, i vostri commenti e mi raccomando ormai ve lo dico sempre e poi non dite che non vi aiutiamo in cucina. Scrivetemi su whatsapp, a presto!